Cos'è la prima cosa che dovrebbe fare il governo Milone sul fronte di lotta di mafia? Ma scrivere un rigo. La riforma cartabbia va abrogata. Era talmente fatta bene che si sono accorti che non può essere attuata, non può essere applicata. Quindi è stata rinviata al 31 dicembre. Ma poi il 2 gennaio, l'1 gennaio non potrà essere attuata. Perché sono tanti di quei granelli di sabbia negli ingranaggi che è impossibile che funzioni il sistema. In Italia mancano 1.600 magistrati e con la riforma cartabbia ce ne vorrebbe quasi il doppio dei magistrati che ci sono oggi per attuarla. Hanno solo duplicato, triplicato i passaggi procedurali, altro che velocizzare i processi. A parte l'informatizzazione, a parte l'improcedibilità, poi in appello, della quale abbiamo già parlato, oggi i rati bagatellari, oggi in base alla riforma cartabbia, prima che vada il giudice, ci vuole un altro giudice che fa un'udienza filtro per stabilire se ci sono delle nullità, delle improcedibilità e poi va il giudice, quindi due giudici. Immaginiamo un tribunale medio-piccolo, italiano, dove ci sono due GIP. Il giudice A fa questa udienza filtro, il giudice B lo condanna per abusivismo edilizio. Dopo un mese dalla condanna riprende la costruzione. Né il giudice A né il giudice B potranno giudicarlo, perché già si sono pronunciati su quella costruzione abusiva. E quindi deve venire un giudice da fuori, applicare un altro giudice. Quindi abbiamo rallentato la procedura. E io di questi esempi, ne potrei fare per due ore, vi posso fare di questi esempi, di come la riforma cartabbia ha rallentato, rallenterà la giustizia italiana. Ecco, ma è fondamentale per ottenere i soldi del PNRR dall'Europa? Perché l'Europa ha detto di velocizzare i processi, non di rallentarli. Vedrete quando entrerà in vigore, cosa succederà. Ecco, ma quindi va cancellata la riforma cartabbia. Certo, va cancellata. L'unica cosa buona che ha fatto è l'informatizzazione del processo penale. Se vogliamo risolvere il problema, nell'immediato, mancano 1600 magistrati. Domani mattina si può, su base volontaria, portare l'anzianità di servizio ai magistrati da 70 a 75 anni. Si possono ridurre del 50% i magistrati fuori ruolo. Sono oltre 250 magistrati fuori ruolo in giro per i maravri. Come ha detto Lili Gruber, l'approvazione della riforma cartabbia è stata uno degli obiettivi raggiunti che hanno consentito all'Italia di ottenere la seconda rata del PNRR. Quindi non capiscono niente neanche in Europa? Sicuramente che non capiscono niente. E se noi aboliamo tutto adesso che succede? Sicuramente che non capiscono niente in Europa. Perché se noi pensiamo, intanto abbiamo incassato i soldi, sì, però poi ho un sistema penale, processuale, detentivo che non mi funzioni, che me ne faccio io? Ma è possibile che l'Italia deve essere sempre ragionamente dell'Europa? Una delle cose decise, messe nella manovra economica e quindi decise, è l'inalzamento del tetto del contante a 5.000 euro. Ha ragione chi dice che questa misura favorisce l'evasione fiscale e anche il riciclaggio? Favorisce la piccola evasione, favorisce il piccolo riciclaggio. E diciamo che questa volta l'Italia sia adeguata all'Europa. Siccome in Europa non c'è un limite al contante, c'è solo una direttiva europea che invita gli stati a non consentire transazioni superiori a 10.000 euro. Ma può capitare se io parto dall'Italia con due valigie di euro, vado a Francoforte, entro in un autosalone, compro una macchina da 90.000 euro, nessuno mi chiederà quei soldi dove li ho presi. Questa è la situazione in Europa in questo momento. Quindi grave? Gravissimo, non grave. Siamo all'anno zero nel contrasto alle mafie. Non c'è l'idea, non c'è la visione. La Germania è il secondo paese d'Europa a più alta densità andranghetistica. E nessuno ne parla e nessuno si preoccupa. Perché lì l'andrangheta non uccide, l'andrangheta vende cocaina e con quei soldi sta comprando tutto ciò che inventa. L'Europa è diventato un grande supermercato, anche delle organizzazioni sudamericane, perché solo il 9% della cocaina che si vende in Europa viene pagata in Sud America. Il resto, i colombiani sudamericani vogliono essere pagati in Europa perché ritengono più conveniente investire in Europa. Quando c'è stato l'elenco di chi aveva bisogno del reddito di cittadinanza, non voglio entrare nel reddito di cittadinanza, voglio solo dire un metodo. Ma va riformato il reddito di cittadinanza? Sì, va anche riformato. E anche cos'altro? Io ho detto a Lanci... E cos'altro? Aspetta, io ho detto a Lanci. Io ho detto a Lanci. Guardate, questi elenchi, dateli alla Prefettura. La Prefettura distribuisce a Polizia Carabiniera e Finanza e in 3-4 giorni vi dicono chi ha veramente bisogno o chi non ha bisogno, o chi è un evasore sul piano tecnico. Perché vi ricordate quando durante il Covid sono stati distribuiti i computer? A scuola di mia moglie è andato uno con un Land Rover da 95.000 euro a prendersi il computer per la figlia perché lui risultava indigente e nulla tenente. non è possibile che accadano di queste cose. A noi c'è capitato nel corso di indagini di mafia decine e decine di persone che usufruivano del reddito di cittadinanza che in realtà erano gente ricca, erano trafficanti di droga. E allora vanno fatti i controlli a monte, non poi a valle. Io non ho tempo di fare indagini su questa tipologia di reato, su questa tipologia di fatti. E sono gli strumenti amministrativi che a monte devono andare a vedere a chi daranno questi soldi. Non prima dai soldi e poi fai i controlli. Stabiliamo prima chi ha diritto e poi diamo i soldi a chi ha diritto. Salvini, leader della Lega, nonché vicepremier, nonché ministro delle infrastrutture, ha detto che il ponte sullo stretto è una priorità del governo e che stavolta si farà davvero. È una buona notizia? Guardi, le dico questo. 8-10 anni fa attraversavano lo stretto di Messina 2 milioni e mezzo di macchine, di automobili. Oggi un milione. Perché ormai chi va in vacanza in Sicilia non parte più da Milano con la macchina, si fa 1600-1700 km per andare a mare. Prende un volo low cost a olio a serio, scende a Catania, che è il quinto aeroporto d'Italia, o a Palermo, si fitta una macchina di segmento B e sta una settimana a Fontane Bianche, a Ognina e se ne torna a Milano. Quindi è obsoleto oggi fare il ponte sullo stretto di Messina? Io penso, io dico, fate un sondaggio sui calabresi, ai calabresi e ai siciliani, e chiedete qual è la priorità di cui hai bisogno. Io dico, io da calabrese dico, io vorrei le stesse infrastrutture che ci sono in Veneto, in Emilia Romagna e in Lombardia. E' ovvio che le mafie tenderanno ad andare, però le opere pubbliche non si può dire non si devono fare perché se non c'è la mafia. Le opere pubbliche si fanno se sono utili, non se c'è la mafia o non c'è la mafia, perché sennò non voglio che sia un alibi per le mafie. Sì, è utile, perché noi impieghiamo una giornata in treno, è utile e quindi si fa. Appena, anche a me mi è stato detto, mi è stato chiesto l'anno scorso, gente di governo, però c'è l'Andrangheta, non vi preoccupate Ministro, lei faccia la Salerno-Reggio Calabria, l'alta velocità, che poi l'Andrangheta ci pensiamo noi. Ha ragione Nordio a dire che dobbiamo depenalizzare, però dobbiamo creare degli automatismi e delle sanzioni amministrative. Dobbiamo potenziare le prefetture, questo è importante. Le prefetture vanno raddoppiati, il personale prefetturale. Non dobbiamo riversare tutto sul penale, dobbiamo potenziare le prefetture, tornare Stato. Poi, questa è la prima parte, per quanto riguarda quella norma che è stata scritta in fretta e non in modo tecnicamente impeccabile, diciamo così, tutti avete gridato allo scandalo sulla pena alta a sei anni. Allora, intanto non è che siccome la pena di tale è sei anni, vuol dire che ci sarà mai una condanna a sei anni. Quella invece serviva per poter fare le intercettazioni. E invece l'unica cosa giusta che andava mantenuta era la pena alta, per consentire le intercettazioni, perché se io posso fare le intercettazioni, posso, prima che ci sia il raduno, capire se si sta organizzando il raduno o meno? Ma non è un po' esagerato le intercettazioni per un raduno di un po' di gente che balla, si ubriaca? Allora, guardi, le faccio l'esempio... Le intercettazioni si fanno per la mafia, per la... Le faccio l'esempio di quello che è accaduto quest'estate nel Lazio, nel nord del Lazio, mi sembra che eravamo provincia di Rieti. La zona di Viterbo. Il proprietario di quei terreni ha detto, io ho avuto 300 mila euro di danni. Mettiamo il caso in cui, invece, 300 mila, 250 mila euro di danni. Non mi pare che nel 2022 sia tollerabile che un cittadino abbia le sue terre, i suoi campi... Ma perché? Certo che no. E che si è invaso. Cioè, mettiamoci nei panni di questo povero disgraziato che ha avuto devastato. Gli hanno rubato il gasolio, gli hanno rubato le batterie dei trattori. Perché dobbiamo tollerare queste cose? Il problema dell'immigrazione clandestina sono le navi delle ONG? Perché abbiamo visto un grande, anche addirittura uno scontro diplomatico con la Francia. Allora, con la Francia, guardi, la Francia, come in Inghilterra, quando parliamo di Africa, per un secolo e mezzo devono stare zitti. La Francia e l'Inghilterra per un secolo e mezzo non devono parlare assolutamente di Africa. Io sono stato in Zimbabwe, in Zambia, per motivi di lavoro. E se sono vere il 50% delle cose che mi hanno detto... Questo per il passato coloniale, no? Per il passato coloniale. E allora, quindi, i francesi e gli inglesi non devono parlare. Il problema dell'immigrazione, se il problema si tratta, intanto dobbiamo dire... Ma c'è un'emergenza in migrazione, come ha detto Meloni e il suo governo? C'è un'emergenza nel senso che sono flussi di persone fuori controllo. Non è questione di numero, fuori controllo, non sa che arriva. E allora, noi dobbiamo andare, e già questo l'ho detto, sotto il deserto. Ci sono 4-5 paesi da dove partono tutti questi disgraziati, questi poveretti. Intanto non sono gli ultimi che partono, sono quelli che hanno i soldi. Che riescono a pagarsi un viaggio costosissimo. Ma prima dell'attraverso del mare, c'è l'attraverso del deserto. Io ho sempre detto, l'Aise, i servizi segreti che dovrebbero stare all'estero, mentre l'85% sta nel raccordo anulare, non capisco perché non vanno sotto il deserto per capire cosa accade lì, per capire chi è che controlli. Ma non partono solo quelli che hanno i soldi, però. Partono migliaia e migliaia di disgraziati che non hanno niente. Aspetti, chi ha 4 mila dollari in Africa non è un povero disgraziato. No, ho capito. Perché i poveri disgraziati sono quelli che hai visto in Zambia, dove ci sono le cliniche, quelli che loro che hanno cliniche. C'è stanze di 4 metri quadri dove c'è un volontario medico italiano e ci sono 100 mamme in fila indiana con 2-3 bambini malati che vanno. Quelli sono gli ultimi della terra. Va bene, ho capito. E poi parliamo dell'attraversamento del Mediterraneo. Mi pare che l'attraversamento del Mediterraneo, l'energia, sia una minima parte rispetto a quelli che arrivano. 10%. Il 10%. Quindi non è un'emergenza. Il problema qual è? Il problema è che l'Italia è debole in Europa. È debole. Non ha voce in capitolo, non ha forza. Perché altrimenti, se siamo nell'Unione Europea, se siamo nella Comunità Europea, è un problema che riguarda tutta l'Europa. Non deve riguardare l'Italia o la Spagna o Malta. Scusa come l'Italia e anche questo governo sono in prima linea per l'invio delle armi all'Ucraina. Che cosa la preoccupa? Mi preoccupa. Quando c'è stata la guerra in Bosnia, nell'ex Icoslavia, io ho fatto diverse indagini in Bosnia e in Montenegro. E vedevo l'Andrangheta che andava lì a comprare Kalasnikov a 750 euro, Bazooka a 750 dollari. Quindi prezzi bassissimi. Perché lì ogni famiglia aveva davanti casa 3-4 tombe dei morti e ammazzati e sotto un deposto di armi. 10 kg di plastico C3 e C4, 5-6 bazooka. Quindi lei teme una concentrazione di armi in mani? La Saira Coronita e la mafia albanese andavano nell'ex Icoslavia a comprare le armi e l'Andrangheta li comprava. Ora io ho visto in televisione delle armi 10 volte più potenti dei bazooka. Allora io dico, gli stati che mandano armi, che hanno mandato armi, perché non hanno previsto almeno un GPS all'interno di questo strumento infernale, almeno un GPS, per vedere la tracciabilità di queste armi. Perché io non so se tu, Ucraina, stai utilizzando, utilizzerai tutte queste armi o se invece non si è già creato un mercato nero. O si che anche sul fronte si mette un tesoretto da parte. E quindi poi che facciamo? Creiamo un ulteriore problema delle nostre mafie che vanno a fare altre lette. È altamente probabile. Grazie a tutti.